Buongiorno e benvenuti allo speciale Le Notizie, oggi dedicato al 27 gennaio, giorno della memoria. Questa giornata fu stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare tutte quelle persone uccise nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina le classi quinte del nostro istituto, presso il Teatro della Scuola Secondaria, incontreranno il signor Massimo Gobbi, che ci racconterà la terribile prigionia che visse suonno Oreste Treccani, nel Lager. Gli studenti di Terza Media, invece, saranno invitati presso il Teatro Comunale alla visione del film Anna Frank, Vite Parallele. La copertina che vedete in sopraimpressione è quella del commovente libro di cui Massimo Gobbi è autore. Signor Gobbi, come mai hai scelto questo titolo? Il titolo è l'eredità perché la vita di mio nonno è tutta un'eredità che ci ha lasciato di valori, soprattutto, e di esperienze umane, che secondo me valeva la pena di trasmettere ai miei cusini, ai miei figli e ai miei nipoti. Cosa ha provato mentre scriveva la storia di suo nonno? Ho rivissuto certe esperienze che ho fatto con lui, ho provato a immaginare cosa ha provato lui in certe situazioni, soprattutto così drammatiche, e ho provato tante emozioni e spero che la stessa emozione possa arrivare a chi lo vede. Grazie a tutti. Voi siete chiamati a costruire e a fare memoria per trasmetterla a chi verrà dopo, perché non ci sarà più nessuno che ha vissuto questa cosa a raccontarlo, ci sarete voi che avrete questo compito prezioso di portare avanti la memoria di questa cosa terribile che è successa. E tenete conto che non è facile fare memoria, è un evento lontano. E se vedete, se analizzate bene la cosa, è stato fatto da persone che in tutto e per tutto erano uguali a noi, non erano mostri riconoscibili, erano persone che come noi avevano una vita normale, avevano una famiglia, avevano dei figli, ma hanno fatto delle cose terribili. Quindi questo cosa vuol dire? Che la guardia deve sempre essere alta, perché queste situazioni che si sono verificate 75 anni fa possono comunque ripetersi. E' solo la conoscenza e il ricordo e la memoria, la costruzione della memoria, perché adesso non si tratta più di raccontarla perché è vissuta, si tratta di costruirla. Solo se sarete in grado di costruire, saremo in grado di costruire questa memoria, potremmo forse sperare che non accada più. Abbiamo appena finito la visione del film Anna Frank, raccontato in vite parallele. Questo film parla di Anna Frank principalmente, però parla anche di questa ragazza che cerca comunque di scoprire cosa è successo e cosa è successo a tutti gli altri sopravvissuti. Secondo me questo film è molto importante per ricordare comunque la memoria di molte persone che ormai non sono più tra noi perché sono state uccise o sono morte e è molto importante ricordare le persone che hanno comunque segnato la storia e non solo ricordare una persona come Anna Frank, ma tutte le 6 milioni di persone che sono morte. Quali consigli ci suggerisce per costruire un mondo migliore? Voi siete già forti secondo me, però non dovete avere paura, perché la paura molte volte viene usata per creare dei nemici. La paura unita al pregiudizio diventa intolleranza, diventa razzismo, diventa odio, diventa violenza, diventa guerra. Quindi è un precipitare in un baracolo dell'orrore. Quindi vi chiedo, non avete paura e non fate pregiudizio. Salutiamo e ringraziamo il signor Massimo Gobbi per la sua disponibilità. Arrivederci. Oresto Guerino, come una maggioranza di loro, come vi ho detto prima, 650.000, ebbero una grande forza di rimanere immobili e di dire no. Ma di quel no pronunciato più volte è molto importante per noi cogliere il significato. Perché era un no per costruire un mondo migliore per sé, per i propri carni, ma un mondo migliore per noi. Un mondo senza odio, senza intolleranza, senza razzismo, senza dolore, senza violenza, senza odio, senza morte, senza guerra. Un no per non avere paura. Loro per la paura la conoscevano benissimo perché erano nati con la prima guerra mondiale. Stavano combattendo da tre anni un'altra guerra. Stavano combattendo da tre anni un'altra guerra.